in questo momento uno dei piani più critici è quello dell'emergenza in furgenza del pronto soccorso e abbiamo presentato alla regione Emilia Romagna le nostre proposte per fare in modo che il personale convenzionato, quindi quei medici libero professionisti che per direi vent'anni in questa regione hanno tenuto aperti pronto soccorso, essendo poi finiti nel link del cornuto emazziato nel senso che molti entrarono con l'ipotesi un giorno di essere assunti e poi in realtà sono quasi 17-20 anni che hanno lavorato come se fossero dipendenti ovviamente senza lo stipendio del dipendente, con uno stipendio decisamente diverso, una attribuzione diversa senza il TFR, la tredicesima, senza tutte queste classiche tutele che ha il personale dipendente e però poi sono rimasti cornuti emazziati perché non sono mai stati assunti, al massimo hanno avuto un rapporto di convenzione, quindi un rapporto libero professionale a tempo indeterminato e a questi medici addirittura non è mai stato neanche permesso di frequentare le specializzazioni che sarebbero servite per fare il lavoro che in realtà già facevano nel sistema sanitario, quindi insomma come dire c'è stato negli ultimi anni un grosso attrito che ha portato i professionisti a lasciare i servizi di emergenza con motivazioni diverse tra il personale dipendente e il personale convenzionato e quindi in tutto questo ovviamente si sta cercando di trovare una quadra perché il sistema di emergenza è uno dei sistemi tra l'altro in Emilia Romagna è stato sempre storicamente un fiore all'occhiello per non solo tenerlo aperto ma per fare in modo anche di invertire la tendenza e di come dire favorire il rientro dei professionisti o comunque l'arrivo di nuove leve. Non vogliamo più vedere automediche sospese come è successo a Modena, soppresse, il soccorso territoriale messo a rischio pur di tenere aperti i presidi che poi hanno la capacità di gestire solamente delle basse criticità sostanzialmente. Noi vogliamo che il servizio 118 rimanga aperto, rimanga strutturalmente solido, che sia in grado di dare la risposta alle situazioni realmente critiche. Noi quindi abbiamo fatto una serie di proposte, alcune per superare delle incompatibilità insensate che erano state messe nella formazione dei medici del 118 a livello regionale, dei percorsi formativi che abbiamo richiesto per chi vorrà collaborare all'interno delle strutture ospedaliere e una strutturazione omogenea che vada bene a Piacenza come a Rimini per fare in modo che il medico che vuole e che si sente in grado di supportare le attività di pronto soccorso abbia una sua tutela medico-legale, assicurativa, un suo riconoscimento, il riconoscimento sia giuridico che economico per fare quelle attività e che possa quindi garantire la tenuta del sistema nel suo complesso. Grazie